Penny Faye, che hai fatto? Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio marito. È la nostra missione aiutare. Chiunque stia soffrendo si sente escluso. Lui ha un progetto per noi. Che ti ha detto di fare questa volta? Jim predicherà e io canterò. Hi Jessica, in questo film hai chiesto per la prima volta, come è stato l'entrazione? Oh mio dico, è stato molto stressante. Ho lavorato con David Cobb, che è un produttore musica, che è stato molto strano, perché la mia musica sta spiegando quando sto facendo queste interviste. Ha fatto la musica per A Star Is Born, quindi sì, è stato molto. Ma, non lo so, credo che mi piace essere in posizioni in nonostante, quindi spero che ci farà in qualche modo. Grazie. 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 Di controllare. Per te ho creato un impero. Per te hai creato un impero. Certe persone stanno talmente male che noi dobbiamo solo amarle. Voglio proprio abbracciarti, sai? E io voglio abbracciare te, mi fai. Non continuerò a guardare nello specchietto retrovisore cosa è stata la mia vita. Questa sono io.